Nella domenica dove l'Alma Juventus fan ritrova i propri tifosi, una quarantina di Panthers sono presenti allo stadio dei Marsi di Avezzano, l'Alma prova a tornare nel campionato e riprendersi il campionato che lo scorso campionato aveva visto, appunto la compagine di mister Alessandini, protagonista diretta insieme alla mazzeratese. Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Sergio Catalani che vi parla dello stadio comunale dei Marsi di Avezzano. Attenzione Di Genova, c'è l'Avezzano che fa gol, c'è il gol dell'Avezzano, segna il numero 7 Puglia su una bella iniziativa con Di Genova. Altra situazione da palla inattiva, ancora Maurizio Chiacchiarelli dalla bandierina, il traversone sulla palla e c'è il gol! E c'è il gol! E Sassaroli che la mette dentro! Favo anticipato, c'è a centrocampo Sassaroli, prova a innescare Sivilla, vediamo Andrea! La palla è buona per Sivilla! Sivilla ancora, non era fuori gioco, vediamo Sivilla! Prova il tiro e c'è il gol! Andrea! Sivilla! Settimo gol per il bomber, Sivilla, Sivilla molto bene, mette nel mezzo, c'è il portiere che perde la palla, poi Sivilla ancora, Sivilla, 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 Sivilla! 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 Andrea! Sivilla! Sassaroli ancora verso Sivilla, la palla è buona, ancora Andrea! Sivilla, 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 Sivilla! Sivilla! Andrea! Sivilla! Tripletta! E sono quattro! Il destro mortifero del Cobra! Intanto seguiamo, c'è Ginestra, attenzione, l'occasione, il gol, il gol di La Rosa, che era sembrato fuori gioco nettissimo, ma al tramonto dei quattro minuti di recupero può bastare così secondo il comunque mediocre Lillo di Brindisi. Alma Juventus-Fano batte in maniera trionfalistica qui al Dei Marsi-Lavezzano, 4-2!